Ciao a tutti e a tutte! Oggi vediamo 27 espressioni idiomatiche con il verbo dare. Dunque, il verbo dare in italiano, che non va confuso con il verbo inglese to dare, che viene scritto uguale, offre moltissime espressioni idiomatiche differenti. Va ricordato innanzitutto che il verbo dare in italiano si traduce di solito con il verbo inglese to give, per esempio io ti do un libro, diventerà in inglese I give you a book. Ma in alcuni casi utilizziamo altri verbi inglesi, come per esempio mi puoi dare il giornale, diventerà can you hand me the newspaper. Dunque, vediamo 27 espressioni differenti idiomatiche con il verbo dare e le loro differenze. Prima espressione, dare una mano, significato aiutare. Facciamo un esempio. Mi puoi dare una mano a fare gli esercizi di matematica? Ora, va ricordato che dare una mano, che vuol dire, abbiamo detto, aiutare, ha un significato molto diverso dall'espressione darsi la mano, che vuol dire letteralmente stringere la mano di un'altra persona. E, in senso figurato, darsi la mano vuol dire fare la pace. Seconda espressione è dare i numeri. In inglese la traduciamo con to go crazy, in spagnolo volverse loco. Il significato è... Un primo significato è fare o dire cose senza senso. E un secondo significato è arrabbiarsi. Quindi, per esempio, mi sembra che stai dando i numeri, non riesco a capire cosa vuoi dire, perché dici delle cose senza senso. Il secondo esempio utilizziamo dare i numeri nell'accezione di arrabbiarsi. Quindi, non so come fare a calmarla, sta dando i numeri. Terza espressione con il verbo dare è dare ragione. Il significato è riconoscere, per vero o per giusto, ciò che dice qualcuno. Per esempio, il professore ha ascoltato a fondo lo studente e infine gli ha dato ragione. Ovvero, ha dato ragione allo studente. Quarta espressione è dare fastidio. Il significato è causare irritazione o disagio o nervosismo in una persona. A volte viene anche detto dare noia, ma è più diffusa l'espressione dare fastidio. Per esempio, la musica alta mi dà fastidio, potresti abbassare il volume? Secondo esempio, non mi dai fastidio, chiedimi pure quello che vuoi. Quinta espressione è darsi delle arie. Il significato è vantarsi di qualcosa. Esempio, non sopporto quando Luca si dà delle arie davanti agli altri. È così presuntuoso. La sesta espressione è dare a intendere, che viene anche sostituita dall'espressione dare o darla a bere. Il significato è far credere qualcosa a qualcuno. Esempi. Primo, non voglio darti a intendere che non ti voglio qui, ma puoi fare più silenzio per favore? Secondo esempio, non voglio darti a bere che sono ricco, però posso dirti che non ho problemi economici. La settima espressione è dare carta bianca a qualcuno. Il significato è concedere a qualcuno la massima libertà di agire o di prendere decisioni senza imporre alcun limite. Esempi. Primo, il mio capo mi ha dato carta bianca per sviluppare il mio nuovo progetto. Secondo, gli ha dato carta bianca per organizzare la mostra di fotografia contemporanea. Espressione numero 8 è dare per scontato. Il significato è pensare che è vero o certo qualcosa senza verificare o controllare. Esempi. Non dare per scontato che ti aiuterò. Devo ancora decidere. Secondo esempio. Non dare per scontato che sono d'accordo con te. Prima, devi sentire la mia opinione. Non espressione è dare da pensare. Il significato è preoccupare. Per esempio. La sua malattia mi ha dato da pensare per molti mesi. Espressione numero 10 è dare ai nervi oppure possiamo dire dare sui nervi. Il significato è innervosire. Vediamo qualche esempio. Primo, i continui ritardi di Maria mi danno sui nervi. Secondo esempio. L'atteggiamento di superiorità del suo collega gli dava molto sui nervi. Espressione numero 11 è dare alla testa. Il significato è stordire. Esempio. Tutto quel potere gli ha dato alla testa a quel politico. Espressione numero 12 è dare nell'occhio. Significato attirare l'attenzione. Esempi. Primo, sarà meglio non dare nell'occhio e vestirci in modo semplice. Secondo, ha un orologio così costoso che dà subito nell'occhio. Espressione numero 13 è dare retta a qualcuno. Significato. Seguire i consigli di qualcuno. Esempio. Manuele ha dato retta a suo padre e infine si è iscritto a un corso d'inglese. Espressione numero 14 è darci dentro. Significato. Impegnarsi con forza e determinazione per raggiungere un risultato. Un sinonimo di questa espressione è l'altra espressione mettercela tutta. Esempi. Diamoci dentro ragazzi, così vinceremo la partita. Altro esempio. Ci abbiamo dato dentro per pulire la casa e alla fine era davvero splendida. Espressione numero 15. Non dare tregua. Significato. Non concedere, riposo o pausa. Continuare ad agire o a pressare con forza. Esempi. Non gli ho dato tregua finché non mi ha detto la verità. Altro esempio. Gustavo non ha dato tregua a Maria finché alla fine non ha accettato il suo invito a cena. Espressione numero 16. Darsi per vinti. Il significato dell'espressione darsi per vinti è rinunciare a una sfida o a raggiungere un obiettivo e accettare semplicemente la sfida, la sconfitta. Esempi. Non dovresti darti per vinta solo perché hai avuto un brutto voto. Ci sono sempre modi per recuperare. Altro esempio. Non diamoci per vinti anche se il nostro negozio è chiuso e cerchiamo nuove opportunità. Espressione numero 17. Darsele. È un'espressione che spesso è inserita all'interno di un'espressione più ampia che è darsele di santa ragione. Significato litigare o scontrarsi in modo violento. A volte picchiarsi. Esempio. I due uomini hanno litigato tanto e alla fine se le sono date di santa ragione. Espressione numero 18. Darsi la gambe. Significato scappare, fuggire. Esempi. Non dovresti dartela a gambe levate ogni volta che vedi un problema. Affrontalo. Espressione numero 19. Darsi a qualcosa. Significato dedicarsi o fare una certa attività o un mestiere. Esempio. Lucia si è data la cucina e adesso ogni giorno prepara buonissimi dolci. Espressione numero 20. Dare filo da torcere o dare del filo da torcere. Significato creare difficoltà e problemi e rendere più complicato qualcosa. Esempi. Primo. La squadra avversaria ha dato del filo da torcere alla squadra che era in vetta alla classifica. Esempio numero 2. Nelle ultime elezioni politiche il candidato del partito verde ha dato filo da torcere al politico del partito giallo. Espressione numero 21. Dare credito. Significato dare fiducia. Esempio. Francesca ha dato credito alle parole di Ugo anche se aveva già una volta detto delle bugie. Espressione numero 22. Dare corda. Significato concedere opportunità e possibilità. E in senso figurato concedere spazio. Per esempio. Luca ha dato troppa corda al suo vicino che poi si è comportato male. Secondo esempio. Non dargli troppa corda altrimenti poi se ne approfitta. Espressione numero 23. Dare spazio. Significato. Lasciare che qualcuno agisca senza ostacolarlo. Esempio. In Italia bisogna dare più spazio ai giovani e alle loro idee. Espressione numero 24. Darsi da fare. Significato. Impegnarsi a fondo in qualcosa. Esempio. Invece di stare senza fare nulla dovresti darti da fare. Altrimenti non vedrai mai dei risultati positivi. Espressione numero 25. Dare contro a qualcuno. Significato. Essere in conflitto con qualcuno. E avere un atteggiamento ostile verso questa persona. Per esempio. Non dovresti dargli sempre contro ai tuoi dipendenti. Altrimenti poi cambieranno posto di lavoro. Espressione numero 26. Dare in omaggio. Significato. Regalare. Per esempio. Oggi in edicola col quotidiano La Repubblica mi hanno dato in omaggio un libro sull'arte italiana. Espressione numero 27. Dare luogo a qualcosa. Significato. Essere la causa o il motivo di qualcosa. Permettere o facilitare che qualcosa accada. Esempio. La sua decisione di non andare al concerto col marito ha dato luogo a una lunga e animata discussione. Ci vediamo alla prossima.